Negli ultimi due anni il PRI Italia si è tenuto a Roma e quest'anno eccezionalmente è stato anticipato a giugno, quindi una scelta dettata dallo scenario e dall'evoluzione della pandemia, insomma invece di rassegnarci e di ridurre il PRI lo abbiamo quasi raddoppiato. Ed allora invito la sindaco di Milano e presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala a salire sul palco. Simbolica la decisione di ritrovarci a Milano perché Milano è la grande città che più di tutte ha sofferto la durezza di questo virus. Buongiorno sindaco e proprio a Milano, proprio qui alla Scala, la RAI vuole lanciare un segnale forte per riconfermare anche il proprio ruolo di servizio pubblico a fianco della cultura che sta gradualmente, piano piano, tornando agli eventi dal vivo. Sindaco, che significato ha per la sua città? Ripartire da qui, come abbiamo detto, e ospitare un concorso così prestigioso come il PRI Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ringrazio tutti gli intervenuti. È innanzitutto un onore e questo è il punto di partenza. Poi quando lei ha detto eccezionalmente, ho avuto la paura che intendesse dire eccezionalmente a Milano, poi ha detto eccezionalmente a giugno, anche perché io vorrei che il PRI continuasse poi ad essere a Milano. È estremamente importante perché in questo momento di grande trasformazione delle nostre vite, anzi trasformazione è una delle parole più usate in questa fase. Ecco, in questo grande momento di trasformazione della società, della comunità e delle nostre vite, io credo che tutti si debbano trasformare. Evitiamo il facile modo di dire nulla sarà più come prima perché non è così. Quindi, anzi, il fatto di essere qua col PRI che nasce tanti anni fa dimostra che dal passato si prende il buono. Però tutto deve cambiare, deve cambiare in media, deve cambiare la politica per esempio, deve cambiare la televisione. Io sono uno che a casa ha più TV e la TV è fondamentalmente sempre accesa, ma non è normalmente così, no? Per cui è chiaro che tutti noi dobbiamo passare dall'idea che sappiamo che si debba cambiare al fatto poi di voler cambiare. Questo è vero per tutti, tutti pensi al tema dell'ambiente, come tutti ci diciamo dobbiamo cambiare, poi quando tocca a noi fare un sacrificio magari siamo un po' più resistenti. Ma torniamo sul tema della TV, della RAI e di Milano. La RAI ha un ruolo fondamentale nel nostro Paese, l'ho sempre avuto. e io sono tra quelli che dicono lo dovrà sempre avere. È per questo che credo che questo connubio e questa relazione storica tra la RAI e Milano debba essere rafforzato. Non è un mistero che io sono a favore della rigenerazione della presenza della RAI a Milano, pensando e sperando che non vogliono solamente dire trasferimento di uffici, ma per esempio immaginate quanto ad oggi servirebbe un canale o una parte significativa dei programmi in inglese, ma per i nostri ragazzi che magari è un'occasione di più per vedere la televisione, ma anche per noi. Allora ci sono una serie di cose che possono essere fatte. Ecco io, come quando il segretario generale del PRI è venuto da me, la segretaria dicendo vorrei portare il PRI a Milano, non gli ho gettato le braccia al collo perché è la distanza della pandemia, ma gli ho detto facciamolo subito e alla scala. Ecco noi abbiamo una disponibilità totale ad accompagnare la RAI in una trasformazione del suo essere o in un miglioramento della sua funzione sapendo che tutti noi amiamo la RAI. e per cui Milano è, come si potrebbe dire, a disposizione, ma Milano conta su una grande attenzione da parte della RAI. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Sindaco per il suo intervento, per le sue parole. Ed allora Milano è la scala, la scala è Milano. E il tema del PRI 2021 è molto chiaro. Ripartire dalla cultura e dall'intrattenimento il ruolo dei media per un nuovo rinascimento. Ripartire dalla cultura e dall'intrattenimento il ruolo dei media per un nuovo rinascimento.